Tutti abbiamo bisogno di meditare, di riflettere, di ritrovare noi stessi. È una dinamica umana. Ecco dunque l'immagine di giovani e adulti seduti in raccoglimento, in silenzio, con gli occhi socchiusi. Ma cosa fanno queste persone? Meditano. È un fenomeno da guardare con favore, ma meditare nel contesto cristiano, non cristiano, va oltre. Il cristiano quando prega non aspira alla piena trasparenza di sé, non si mette in ricerca del nucleo più profondo del suo io. Questo è illicito, ma il cristiano cerca un'altra cosa. La preghiera del cristiano è anzitutto incontro con l'altro, con l'altro ma con la maiuscola. Meditare per noi cristiani è un modo di incontrare Gesù. È così, solo così, di ritrovare noi stessi. E questo non è un ripiegamento sui noi stessi, no, no. Andare da Gesù e da Gesù incontrare noi stessi guariti, risorti, forti per la grazia di Gesù. Grazie. 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 Grazie.